Ciao da Ruggero e benvenuto al primo episodio di Note dal batterista. Come ti ho già detto nel precedente video di presentazione, con questa serie scoprirai gli album che hanno influenzato la mia crescita di batterista e musicista. Il mio intento con questa serie di video è quello di farti entrare all'interno di ogni album e farti conoscere le 5 Big Drummers Ideas che hanno reso memorabile questo album. Sì, perché avrai capito anche tu che l'apporto di un batterista magico può migliorare notevolmente il sound di un disco ed è questo il motivo per cui alcuni batteristi sono molto più ricercati di altri. Oggi ti voglio parlare di un disco di un batterista storico che ha attraversato le migliori epoche degli anni 70, 80 e 90. Prima come batterista e voce solista dei Genesis, poi diventando una pop star planetaria con la sua carriera solista, oltre ad aver partecipato come session drummer alla registrazione di dischi e come produttore di altri artisti super famosi come lui. Oggi vedremo il primo disco solista di Phil Collins intitolato Face Value. Ho scelto questo album per iniziare perché è completamente frutto dell'opera di un solo batterista. Infatti Phil è compositore, arrangiatore e produttore dell'intero album. L'ho scelto anche perché io sono un super fan di Phil fin dall'infanzia, sono praticamente cresciuto con lui. E poi, inoltre, questo disco ha venduto una valangata di milioni di copie negli anni 80 ed è stato anche un disco importante per quanto riguarda un certo tipo di sound e scrittura. E inoltre contiene tantissime idee innovative e magiche, sia dal punto di vista batteristico che squisitamente musicale. Io ho scelto cinque di queste big drummers idea che Phil ha messo dentro questo album in mezzo a tantissime altre e te ne farò vedere una ad una e te le suonerò anche in modo da isolarti e farti capire perfettamente di che cosa sto parlando e dell'incredibile qualità di queste idee. Ovviamente io non sono Phil Collins per cui non mi sognerei nemmeno mai di avvicinarmi al suo stile perché è oggettivamente impossibile risuonare nota per nota esattamente come ha fatto lui. Però quello che ti consiglio di fare è di andare immediatamente su Spotify o meglio ancora di acquistare il CD e ascoltare almeno queste cinque tracce di cui io ti parlerò ma vedrai che se ascolti tutto l'album per intero troverai tantissime altre magiche idee come quelle che ti sto per far vedere io. Prima di passare ai fatti concreti voglio ricordarti che il PDF contenente le trascrizioni delle cinque big ideas di Face Value le trovi all'interno di Pocket Drum Booster quindi ti basterà iscriverti a quest'area privata che è completamente gratuita al cui interno troverai nel menu questa serie di video contenente anche i PDF e vedrai anche altre sorprese. Dentro quest'area potremmo scambiarci commenti, impressioni sia su quest'album sia per farmi tu i suggerimenti riguardo ad altri album che vorresti vedere presenti in questa serie. Cercherò di accontentarti nei miei limiti. È giunto il momento di cominciare con una breve analisi dell'album e poi delle cinque big drummers idea che ho scelto per te ma prima c'è la sigla. L'album Face Value è uscito nel 1981 ed è il primo album solista di Phil, il primo di una fortunata e lunga carriera che seguirà poi. Phil è l'autore di praticamente tutte le tracce contenute all'interno di questo disco, solo una non è la sua. Questo album presenta diverse idee innovative per l'epoca, sto parlando soprattutto dell'uso della batteria elettronica, uno dei primi esemplari usciti sul mercato da allora, ti sto parlando della Roland CR78. Inoltre un'altra grande innovazione apportata con questo disco da Phil è quello che poi è rimasta la sua firma, cioè il suono della sua batteria. Infatti Phil usa una batteria particolare che è una Gretsch con i tamburi monopelle, cioè senza la pelle risonante sotto. E in questo disco per il 90% usa questo strumento. In un paio di occasioni ci sono i tom con la doppia pelle, ma poi vedremo. Ma soprattutto quello che è rimasto nella storia è la tipologia di effetto che c'è sulla batteria e pare che sia nato da un errore fatto in studio di concatenazione di effetti tra l'effetto gate e l'effetto riverbero. Pare che il fonico li abbia concatenati al contrario ed è nato quel famoso sound che tutti riconoscono al primo colpo. Quindi già queste due idee hanno reso immediatamente interessante il disco. Io ho scelto cinque brani perché secondo me contengono delle idee splendide, magiche, molto intelligenti e interessanti anche da suonare. E già solo queste cinque rendono il disco un must da avere per forza nella collezione di ogni batterista. L'album è un misto di brani pop con spruzzate molto evidenti di soul e rhythm and blues. Infatti Phil Collins ha inserito all'interno dei suoi arrangiamenti una sezione fiati, la Phoenix Horns, e in più all'interno di questo disco ci sono dei grandissimi musicisti turnisti come ad esempio Alfonso Johnson al basso, Eric Clapton alla chitarra, Derry Sturmer alle chitarre, Ravi Shankar al violino e tanti altri. Phil ha dichiarato che questo album è nato nella sua camera, scrivendo i brani di getto dopo la dolorosa separazione dalla moglie e dai figli. E in realtà questo mood pervade tutto il disco, anche se io ho scelto anche alcuni dei brani un po' più allegri e frizzanti. E adesso iniziamo con la prima delle cinque Big Drummers Ideas. E sto parlando del brano di apertura, il brano famosissimo che conoscono anche i sassi, In The Air Tonight. Quando questa canzone è uscita è schizzata ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo ed è una canzone molto particolare. E Phil è diventato subito una pop star mondiale solo con questo brano. Perché questo brano contiene delle cose talmente innovative, interessanti e catchy all'orecchio dell'ascoltatore che non se ne poteva più fare a meno. Il radio impazzava come non mai. Cominciando dall'inizio, la prima super idea di Phil è stata quella di usare questa batteria elettronica CR78 della Roland e programmarci un pattern alquanto inusuale. Perché? Perché, come puoi vedere nella trascrizione, è un pattern lungo due battute e come particolarità è che non è un groove nel senso comune del termine. Infatti non c'è il rullante sul classico 2 e 4 che ci si aspetterebbe in una programmazione pop e addirittura non c'è l'uno sulla cassa della prima battuta. Cioè parte sincopato che nel pop, ricordiamoci che negli anni 80 cominciava a prendere forma e piede anche la dance music, quella fatta già con i sequencer, per cui figuriamoci togli l'uno è come togliere la terra sotto i piedi dell'ascoltatore. Ma per Phil ha funzionato e questo groove di batteria contiene praticamente un tom. Ovviamente i suoni di questa batteria elettronica non si avvicinano nemmeno minimamente ai suoni della batteria acustica, sono volutamente suoni sintetici, ok, elettronici. E ha questa figura di Tom sempre in levare. Anche il Charlie è frammentato, non è costante, per cui come vedi è una rottura di schemi completa rispetto a quello che farebbe una batteria elettronica o che avrebbe fatto una batteria elettronica nelle programmazioni dell'epoca. È un pattern molto interessante che ti consiglio di ascoltare con attenzione e guarda la trascrizione contenuta nel pdf. Ovviamente la seconda Big Drummer's Idea, quella che proprio è esplosa in maniera incontenibile all'epoca, è il mega fill che introduce la seconda parte del brano. Una delle particolarità di questo mega fill è che arriva al minuto 3.40. Cioè rendiamoci conto che al giorno d'oggi al minuto 3.40 la canzone sta facendo il fade out, sta finendo invece fill nel 1981 dove evidentemente i tempi erano un po' più dilatati e segue questo super fill dopo 3 minuti e 40 di batteria elettronica, tappeti analogici e atmosfera misteriosa ottenuta appunto dal suono del Prophet 5 che era una tastiera analogica dell'epoca e un particolare effetto che lui ha sulla voce ottenuto anche con un vocoder se non sbaglio. Al culmine di un crescendo di tastiera e voce esplode questo super fill che come vedi nella trascrizione è piuttosto semplice. Cioè noi batteristi di oggi un fill così per noi è una sciocchezza. Tieni conto che anche all'epoca non è che fosse un fill tecnicamente complicato, è che quando arriva è come un pugno in faccia e il suono della batteria vera che lui usa per fare questo fill è micidiale, non si era mai sentito un suono così. Quindi questo super fill con questo gate reverb applicato alla batteria è semplicemente un gruppo di tre ottenuto da due colpi sui tom e uno di cassa, ovviamente con la scalatura a scendere. E questo super fill che appena lo senti ti basta sentire già le prime 4-5 note e già capisci chi è il batterista, qual è il brano, che batteri è, è già super identificativo, talmente è famoso e anche usato e campionato per altre cose. Questo super fill introduce un'altra incredibile idea, idea che Phil ha avuto per suonare il groove di questo brano, infatti in questo brano il groove della batteria, che finalmente è un groove con il rullante sul 2,4 quindi standardizzato diciamo così, non contempla l'uso dei piatti, cioè dopo il fill normalmente i batteristi cresciano sull'uno, giusto? Lui non lo fa e durante il groove non usa nemmeno il charleston, usa solamente cassa e rullante, fine, tutto qua. Per cui io ti invito a provare a suonare queste 4 battute, perché il groove è lungo 4 battute, senza usare l'arto forte sul charleston. Ti garantisco, io ho fatto piuttosto fatica a suonarle in maniera decente, mai come lui ovviamente, però ti garantisco che non avere la mano che guida con gli ottavi per esempio sul charlie o i sedicesimi è molto difficile da suonare fluidamente così come lo fa lui e l'uso molto interessante che lui fa è anche quello dei drag pressati e delle ghost notes, per cui super fill e super groove rendono questo pezzo una pietra miliare della musica pop degli anni 80, ok? Ancora oggi è tornato in classifica, immagina la potenza del brano. Cosa ti consiglio di fare? Subito e immediatamente apri Spotify o se hai già il cd vatti ad ascoltare al minuto 3.41 queste poche battute, queste prime dieci battute che includono il mega fill iniziale e il groove, che con l'andare avanti del brano viene intervallato ad alcuni fill sempre all'interno dello schema del groove che richiamano il fill iniziale. Tu pensa che livello di intelligenza musicale siamo qua? Prova a suonarci sopra. Prendi la trascrizione, provala un po' per vedere se riesci e prova a suonarci sopra. Quello che ho fatto io è suonare sul disco. Cioè io ho registrato questi video dove suono questi pattern non sul click ma sulla sua registrazione, ok? Per avere il suo timing, ok? E poi man mano ti spiegherò anche le mie impressioni, ok? Quindi adesso non ti resta altro da fare che oltre che ascoltare il cd guarda il video dove io suono la batteria senza ovviamente il brano sotto e ascolta ogni dettaglio perché ho cercato di essere il più accurato possibile. Bene, per la prima big idea è tutto. Era in The Air Tonight, il primo brano del disco. Ci rivediamo nel prossimo video con la seconda delle big idea di Phil Collins che si intitola Behind the Lines. Sai cosa fare? Vai su Spotify o sul cd se ce l'hai già e ascolta e suonaci insieme alla trascrizione che ti ho fornito io nel pdf. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.